Faccio tutt'altro lavoro, ho realizzato questo mio sogno, mi sono iscritta al corso. Questa è una passione che ho sempre tralasciato nel tempo perché faccio tutt'altro lavoro e da quando sono piccolina mi cimento a fare unghie fino a quando ho realizzato questo mio sogno e mi sono iscritta al corso. Mi ha dato tanto e non erano le mie aspettative di arrivare fino a qui e mi sono trovata benissimo. Ho fatto qualche piccolo corso di qualche giornata ma... Agnese è fantastica, fenomenale. C'era tutta l'attrezzatura necessaria per intraprendere questo mestiere. Fantastica e formativa, travolgente. Consiglierei la Training Academy perché veramente vale la pena. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.